Siamo in un negozio di design contemporaneo di Helsinki e sul banco gioielli in ceramica, prodotti tecnologicamente innovativi che imbevuti di profumo rilasciano un gradevole sentore per diverse settimane. È la particolarità della gamma di gioielli Kaipaus. Questa linea di accessori profumati è stata disegnata qui ad Expo, nei pressi di Helsinki. A Tula Antola è venuta questa idea di ritorno da un viaggio di lavoro. All'aeroporto ha comprato questo peluche per sua figlia. Quando ho dato questo coniglio ad Anna ne era entusiasta. Mi ha detto mamma è meraviglioso perché sa di te. Questa semplice idea che Anna a soli sei anni aveva notato mi ha ricordato che l'odore è l'impronta più potente sulla memoria umana. Kaipaus usa nanotecnologie per far diventare le ceramiche diffusori di profumo. Negli ultimi due anni il suo fatturato è raddoppiato in parte perché Tula ha cercato nuove aziende all'estero grazie all'aiuto dell'Enterprise Europe Network. Questa rete di sostegno è stata istituita dalla Commissione europea per aiutare le piccole e medie imprese a raggiungere nuovi mercati. Nelle piccole e medie imprese spesso ci sono più idee che persone. La sfida è scegliere le idee che daranno frutti il più velocemente possibile, aumentando le entrate. Credo che la cosa essenziale sia avere un network di persone con le abilità e il know-how necessari. Tula sta per incontrare Mario Uotila, una dei 3.000 esperti che lavorano per fornire ad aziende come quella di Tula il sostegno di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività. Con 600 centri in 47 paesi, il network è un trampolino di lancio per le piccole aziende. Il network lavora in modo personalizzato. Incontriamo le piccole e medie imprese, discutiamo della loro tecnologia, delle strategie per diventare internazionali e poi vediamo quali servizi il network può offrire per andare incontro alle loro esigenze. Tula ora è a Venezia con Mario per incontrare altri potenziali partner. Francesco Pareti, la controparte di Mario nell'Enterprise Europe Network Italiano, ha studiato un programma di visite alle aziende della zona. Grazie alla conoscenza con le aziende locali, diretta, possiamo suggerire, capire qual è l'interlocutore migliore da contattare e quindi dar vita a dei business matching che possono essere puramente commerciali o tecnologici. Grazie a un database che contiene 13.000 nominativi, Mario e Francesco hanno ampliato l'elenco dei possibili partner commerciali per Caipaus. Nel pomeriggio incontrano Gino Seguso, maestro vetraio in una piccola azienda familiare che sta pensando di utilizzare la tecnologia di Caipaus. Ovviamente che molte volte si parla e non si conclude molto, ma credo che in questo caso ci sia la buona volontà di entrambi di fare qualche cosa di fattivo, di valido. Durante il suo soggiorno Tula ha parlato con una serie di piccole e medie imprese. Con l'aiuto dei network, la sua piccola azienda inizierà ad esportare in Italia, trovando nuove applicazioni per la sua tecnologia. Andiamo adesso a Marburg, una cittadina nel cuore della Germania. Qui c'è la sede di Weitsprung, un'agenzia viaggi particolare. Viaggiare e fare del turismo senza barriere significa poter andare in qualsiasi destinazione, anche se sia disabile. Da quando ha aperto, dieci anni fa, Weitsprung organizza viaggi per persone con mobilità ridotta, dalle persone su una carrozzina a persone cieche, accompagnate dai cani guida. L'agenzia di Marburg fa metà del suo fatturato annuo grazie a questi viaggi. Quest'oggi un gruppo di clienti sta partendo dall'aeroporto di Francoforte. Birgit, cofondatrice di Weitsprung, li sta portando in Grecia per due settimane di vacanze, in uno dei pochi hotel equipaggiati per le loro necessità. L'hotel l'ha trovato alla Fiera Internazionale per il Turismo di Berlino grazie a Tania, che lavora per l'Enterprise Europe Network. In queste occasioni diamo alle piccole e medie imprese la possibilità di incontrare partner potenziali e avere un primo contatto. Tania è stata in grado di mettere in contatto Weitsprung con il manager dell'hotel greco, che era stato portato alla Fiera dal suo ufficio locale del network. Risultato, vacanze nella penisola calcidica, nel leggeo settentrionale, su misura per i clienti dell'agenzia di viaggio tedesca. Birgit ora racconta dei piani futuri con il suo partner greco Pavlos e con gli esperti dell'Enterprise Europe Network che li ha messi in contatto. Le aziende hanno un primo punto di contatto, per poi essere in grado di esplorare possibilità per fare affari in Europa e nel mondo. Il giorno successivo Birgit e il suo socio Martin portano il gruppo al sito archeologico, di Olinto. Per mantenere solida la loro joint venture, l'agenzia e l'hotel contano sul sostegno degli uffici dell'Enterprise Europe Network. Come piccola azienda non possiamo affrontare studi di mercato sul campo. Per noi l'Enterprise Europe Network è una buona piattaforma per raggiungere nuovi mercati, trovare partner e allargare gli affari. Di nuovo all'hotel, lo staff dai villeggianti i povedenti tutte le informazioni e l'aiuto di cui hanno bisogno per essere autonomi. Per l'albergo i clienti disabili sono ancora una minoranza, ma il nuovo business è il benvenuto. Un accordo come quello con Martin ci permette di trovare nuovi partner. Il fatto è che la comunità dei disabili è ristretta, ma al suo interno comunica molto, e questo ci rende pionieri e leader di questa nicchia di mercato. Un'agenzia di viaggi tedesca ha battuto le barriere e un hotel greco si è aperto a nuovi mercati. Questo è solo un assaggio degli obiettivi raggiunti da tante imprese europee grazie all'aiuto del Network.